Come ormai nei cinque anni passati, anche quest'anno organizzeremo il raduno Land Rover nazionale Land Magia e quest'anno avrà una particolarità in più. Faremo un Land Magia in France. Cosa significa? Significa che oltre a noi del Land Magia saranno ospiti della manifestazione tutta una serie di realtà che sul territorio nazionale si occupano di Land Rover. Quindi in questo caso il registro storico Land Rover ma anche altri club affigliati. Quest'anno la location che abbiamo scelto è un posto decisamente blasonato. Quindi saremo al ciocco ospiti di Drive Event e organizzeremo questo raduno verosimilmente come gli anni scorsi dove la particolarità sarà proprio quella della vita all'aria aperta dello spirito di aggregazione. Ci saranno molti percorsi off-road, soft, quindi i classici giri sulle montagne e nei boschi ma anche una pista hard per chi vuole cimentarsi in cose più impegnative che tra l'altro è un percorso dove si fanno anche gare dell'XTC. Quindi senza andare ad utilizzare proprio tutti i percorsi che noi chiamiamo cattivi delle competizioni ci sarà modo di divertirsi anche per i piloti più agguerriti. Quest'anno la Magia, come sempre del resto, sarà nel weekend del 2 giugno. Abbiamo anche un ponte, quindi il lunedì è festivo e questo ci permette di avere una giornata aggiuntiva al weekend. Tutte le informazioni naturalmente potete trovarle sul nostro sito che è www.lenmagia.com e potete scriverci per ottenere tutte le informazioni che desiderate all'indirizzo info-lenmagia.com